Per il suo gesto straordinario e l'alto senso civico dimostrato. Questa è la frase incisa sulla targa che il presidente del Consiglio regionale del Piemonte Stefano all'Asia ha donato a Mattia Aguzzi, l'impiegato di banca 37enne, che lo scorso 26 agosto ha salvato la vita a Frida, la bimba di tre anni precipitata dal quinto piano in via Nizza a Torino, prendendola al volo e attutendo la caduta con il suo corpo. Un eroe che abbiamo voluto onorare e portare a conoscenza del pubblico anche in Consiglio regionale. Ha fatto un gesto eroico, straordinario, senza pensare le conseguenze e soprattutto senza egoismi. Ho chiuso gli occhi e ho sperato che andasse tutto bene. Così Mattia Aguzzi racconta con emozione quegli attimi concitati in cui, allertato dalle urla di un vicino di casa mentre passeggiava con la fidanzata Gloria in via Nizza, ha alzato gli occhi e ha visto la piccola Frida con le gambe a penzoloni prima di lasciare la presa e cadere nell'uoto. All'istante, senza pensare, il 37enne si è posizionato sotto al balcone prendendo al volo la piccola e avvolgendola in un abbraccio per impedire che rimbalzasse via dal suo petto. Ho agito distinto, non c'è stato molto tempo per pensare, sono proprio state frazioni di secondi. Fortunatamente tutta una serie di circostanze ha portato a far sì che la bambina sia caduta addosso a me e nessuno si sia fatto niente. Adesso ne possiamo parlare con gioia, con serenità perché la bimba sta bene e quindi voglio ringraziare nuovamente questa giornata, questa mattinata. Grazie